FOTOVOLTAI In finta pelle Ovviamente non è bella e vera Gaming per la mia postazione video LED digitale Comunque tra qualche giorno uscirà il video Vi lascio sotto in descrizione comunque il link Se volete andarla a vedere Oggi parliamo di fotovoltaico pannelli solari fotovoltaici Questo ragazzi è un pannello solare fotovoltaico Con celle monocristalline PERC, cioè ultima generazione Potenza totale di questo pannello 360 watt Come detto dal titolo oggi vi spiegherò Come potremmo costruirci noi stessi Un pannello solare fotovoltaico Con questi set qui Sono ragazzi dei set composti da celle Composti da la strip Nickel, saldante E poi ovviamente servono altri componenti Come i connettori Come una struttura E allora in un pannello solare E' così composto La struttura ragazzi Dato che dobbiamo andarla a mettere in esterno La possiamo fare in plexiglass Plexiglass di fondo Dove sopra questo plexiglass Andiamo a posizionare tutte le celle Le celle fotovoltaiche Sono costituite da due parti Ecco qua Ecco qua Mettiamo il caso Sia così Ovviamente questo poi ripetuto Tante volte In base a quante celle abbiamo E poi tutte qui Tutte qui Tutte qui Tutte qui Perfetto Idem anche qui Idem anche qui Idem anche qui Eccetera eccetera Perfetto Come si devono collegare le celle Che vedi qui Le celle hanno un polo positivo Un polo negativo Questo perché? Perché bisogna andare a connetterle In serie parallelo Per aumentare la tensione Del pannello solare Bisogna mettere le celle Tutte in serie Ok? Ora andiamo a fare Questo Ecco qui Queste mettiamo Come esempio Che sia Tutte celle Connesse in serie Perciò Uno Due Tre Quattro Stringhe Di celle In serie Nello specifico Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Nove Celle In serie Altre nove Altre nove Altre nove Queste poi Andranno messe come? In parallelo In parallelo Qui abbiamo Il polo positivo Del nostro pannello E qui sotto Abbiamo il polo Uno Due E tre E qui abbiamo Il polo negativo Del nostro pannello Perfetto ragazzi Perciò Struttura In Plexiglas Celle Appoggiate Sopra Saldate Con Polo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo E così via Perché come abbiamo detto Sono tutte connesse In serie Perfetto La saldatura Va fatta a stagno Un normale Saldatore a stagno Si posizionano Le strip Flessibili In Nickel Stagno Però sono ragazzi Davvero Sottilissime Qui in questo pannello Sono Qui Eccole Qui Come vedi Passano sotto Si saldano dietro Passano sotto Perché Che una faccia È il positivo Un'altra faccia È il Negativo Perciò Partendo da sopra Anche questa Come vedi Alla strip Tutta Lunga Che prende Due Stringhe di Pannelli di Di cell Ragazzi Scende 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 Arriva Qui Un'altra Strip Nickel Che va a Metterli In Serie Parallelo Con tutte Le altre Questo è un pannello Da circa 40 volt Massimali Con una corrente Di 10 Amperi Ovviamente Ragazzi Guarda che c'è qui Sono Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Dieci Venti Due Quattro Sei Otto Dieci Dove Sono 120 Celle Connesse In Serie Parallelo Se noi Vogliamo andare a Crearci Perciò Il nostro Pannello Solare Artigianale Dobbiamo andare a Connettere Le celle Ok Celle Che andranno Connesse Così E poi Tutte Parallelate Diodo Nella parte Posteriore Per Diciamo Il diodo Di protezione Il diodo Di bypass Che andrà Messo Tra Polo Positivo E polo Negativo Qui Qui Il diodo Diodo Come I pannelli Commerciali Questo per esempio Ragazzi Ha tre diodi Questa Tipologia Di pannello Potremmo anche Noi mettere Tre diodi Però Tutto sta In base Alla Potenza Il diodo Ha una caduta Di tensione Ai capi Però Comunque Qua andiamo Troppo Nel Nel Complicato Io voglio Fare un video Ragazzi Sempliciotto Per farvi capire In linea generale Come poter andare A realizzare Un pannello Solare Fotovoltaico Poi Andiamo Ad analizzare Questo commerciale Perciò I componenti Sono Le celle Fotovoltaiche Le strip Da saldare Che sono Appunto Le interconnessioni Cella 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 È bene Usare Due tipologie O meglio Due modelli Di strip Una più sottile Per le varie Connessioni Cella Cella E poi Una più Grossa Per andare A fare Il ponte Perché Per quei ragazzi Il ponte Che collega Tutte le celle Deve essere Più grosso Perché fa Passare Più corrente La corrente Proveniente Da tutte Le varie Stringhe Nei dati Tecnici Che troverete Sotto Nei link Delle celle Avrete Queste Caratteristiche ISC VOC IMP DMP Cosa Sono Allora ISC È la corrente Di cortocircuito Della cella VOC È la tensione Di circuito Aperto Perciò Quando la cella Non è connessa A nulla Al sole Misurata È VOC Tensione A circuito Aperto IMP Corrente Massima Power Cioè La potenza Massima La corrente Massima Al massimo Della potenza Di quella cella Foi c'è VMP Tensione Massimo Power E allora Come scegliere La cella Giusta Ragazzi Dipende dal budget Di spesa E dipende dal vostro Progetto Più è potente La singola cella Più sarà potente Il pannello Totale Finale Mettiamo il caso Di quelle che vi lascio sotto In descrizione Sono setta Da Dipende Sessanta Cento Celle Come devono essere Connesse Queste celle Abbiamo già visto In serie E in parallelo Nel caso Nel caso specifico Di una cella Che ha un voltaggio Di massimo 0,5 volt E una corrente Di 0 Di 8 8,8 ampere Con una potenza Cada una Di 4,78 watt Vanno connesse Ragazzi Tutte in serie Se vogliamo andare A creare Un pannello Solare Fotovoltaico Da almeno 30 volt 30 volt Massimali Nel caso in cui Vogliamo andare A creare Dei pannelli A bassa Tensione 12 volt Dovremmo Organizzarci Per avere 12 volt La singola Cella Dunque 0,5 volt Due celle In serie 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt 5 volt 6 volt 7 volt Fino ad arrivare Tutto al massimo Del voltaggio La corrente Abbiamo detto 8,8 ampere Per ogni Cella E Essendo montate Per esempio 60 celle Ok Tutte in serie Abbiamo 0,5 volt Per 60 Ok Questo sta a significare Che abbiamo 30 volt Con 8,8 ampere Massimi Potenza Finale Del nostro Pannello Solare Fotovoltaico Artigianale 264 watt Massimali Ma se Vogliamo andare A creare Un pannello Ancora più grande Ancora più potente Cosa dobbiamo fare Numero 1 Variamo Le celle In serie Aggiungiamo Qualche celle In serie In più Però ragazzi Tutto sta a quanto Poi diventa Grande Questo pannello Perché ovviamente Più è grande Più è complesso Da Spostare Da fissare Comunque O andiamo A metterne Due In parallelo Mettendone Due In parallelo Abbiamo 16 ampere Come corrente Finale Di due Pannelli Di questi 16 ampere Per 30 volt Perché ovviamente La tensione Finale È sempre Quella Per 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 Quanto Riguarda Ragazzi I prezzi Dipende Allora È sempre Una cosa Particolare Però diciamo Che è più Quello Un lavoro Didattico Più una cosa Particolare Per gli amanti Del fai da te E per gli amanti Ragazzi Della tecnologia Ti faccio un esempio I kit Che ho messo sotto Partono Da circa 70 euro Per Arrivare Poi Alla fine A un Buon Centinaio Di euro A set E se Segui il canale Saprai Che io Collaboro Con i maggiori Fornitori E produttori Di pannelli Fotovoltaici Nel mondo Ti posso Aiutare Ad accedere Agli sconti Riservati Ai miei fans Ai miei follower Ed avere Un pallet Cioè Petane Ragazzi Di questi Pannelli Pronti Ad essere Diciamo Installati A prezzi Davvero Davvero Concorrenziali Tutto Ovviamente Pronto all'uso Qui non c'è da uscire Parsi a saldare A Boxare A cercare Materiale Però Per gli amanti Del fai da te Potete farvi Voi Pannelli Solari Perché Conviene Farsi Pannelli Solari Fai da te Converrebbe Nei casi In cui Volete Delle forme Ok Particolari Per esempio Pannelli Stretti E lunghi E lunghi Ok Oppure Con una forma A fiore Per esempio O circolare Ecco Per cose Particolari E se sei bravo Puoi farteli Tutto stesso Seguendo Queste Semplici regole Occhio Ai Tecnici Delle Celle Occhio Poi Alla Varia Connessione Serie Parallelo Più alta Vuoi la tensione Più celle Dovrai Mettere In serie Più alta Vuoi la corrente E più Celle In Parallelo Niente Se sei interessato Al pannelli Solari Fotovoltaici Contattami In e-mail Sotto Faremo Una consulenza Mirata Ti spiegherò Come fare Per accedere Agli sconti Ti farò Vedere Realmente Quanto Conviene Oggi Grazie Alla Convenzione Tra Il nostro Sponsor E il canale YouTube I prezzi Ragazzi Sono Eccezionali Oggi Ragazzi Stiamo Registrando Grandissimi Record Negli Ordini Di pannelli Solari Fotovoltaici Il fornitore Lo sponsor Mi ha ieri Comunicato Che nel giro Di una settimana Hanno fatto Fuori 190 Pallet Ragazzi Enormi Di pannelli Ogni Pallet 30 35 Pannelli Cioè Oggi L'italiano Solo in Italia Attenzione L'italiano Medio Sta capendo Che conviene Investire Nel fotovoltaico Per evitare Oggi E in futuro Blackout Perché ragazzi Andremo a finire Andremo a finire Con l'energia Elettrica Contata Col Contacocce Andremo a finire Con Un obbligo Di consumo Massimo Ben Definito Se superi Se superi Quella 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 Ti Penalizzeranno Oltre che Ad oggi Avere Un Costo Per l'energia Troppo Troppo Alto Per ciò Che si paga Conviene Davvero Investire Nel fotovoltaico E prodursi Da soli Energia Elettrica Se volete Anche voi Fare Questo passo Verso L'autonomia Contattatemi Vi posso dare Tutte le informazioni Del caso Faremo Una Consulenza Energetica Io sono Un consulente Energetico Vi spiegherò Quali pannelli Quali Componenti Servono Per poter Diventare Indipendente O quasi Energeticamente Ragazzi Ciao ragazzi E al prossimo video